È stata presentata in municipio la quindicesima edizione della Rassegna Canora I bimbi per i bimbi, organizzata dal Comitato Provinciale Unicef di Ravenna che si terrà domenica 6 maggio alle ore 15.30 al Teatro Alighieri. Beh, questo è sicuramente un bellissimo progetto perché grazie alla musica possiamo trasmettere qualcosa, non solo in senso materiale ma proprio in senso morale, a questi bambini che purtroppo non hanno le stesse nostre fortune. Io sono molto emozionata anche perché è un progetto meraviglioso e secondo me è anche molto importante e insomma mi è piaciuto aiutare un po' anche diciamo questi bambini che devono essere appunto aiutati per vivere. Tutti gli anni noi abbiamo un obiettivo da raggiungere con la raccolta fondi, abbiamo per molti anni dedicato la raccolta fondi ai bambini di strada del Congo poi ci fu l'anno in cui raccogliamo i fondi per il terremoto di Haiti e l'anno scorso abbiamo dedicato la raccolta fondi alla campagna della malnutrizione e quest'anno la nostra campagna è una campagna che abbiamo lanciato quest'anno come UNICEF e che portiamo avanti e si chiama la campagna Vogliamo Zero. Questo zero si riferisce alle morti dei bambini che ogni giorno ne muoiono 22.000 per cui sono cause prevenibili, cause che possiamo risolvere anche a bassi costi quindi è inaccettabile che non si pongano delle strategie per poter eliminare queste morti. La manifestazione consiste in una rassegna canora, siamo alla quindicesima edizione proprio della rassegna canora è una rassegna canora in cui ci sarà un coro, appunto il coro dei bimbi per i bimbi di 50 bambini di età compresa fra i 6 e i 12 anni. Viene selezionato questo coro a novembre poi a gennaio cominciamo le prove due volte a settimana e pian piano pian piano interpreteranno e interpretano e studiano 10 canzoni che verranno proposte proprio il 6 maggio la nostra rassegna canora appunto al Teatro Lighieri e pian piano questi ragazzi crescono soprattutto nel senso del volontariato, della solidarietà perché il coro dei bimbi per i bimbi ovvero coro UNICEF ha proprio questo intento importantissimo, cioè quello di puntare sul volontariato e sulla solidarietà. In più ci sarà come l'anno scorso l'aggiunta del coro da fratello a fratello e anche questa è una cosa molto bella perché è un gruppo di circa una ventina di ragazzi ex bimbi per i bimbi che adesso vanno dai 15 ai 22 anni, cioè ragazzi quindi delle superiori e dell'università corredate anche dalle coreografie di Laura Ruocco, cioè dell'Accademia del Musical di Ravenna e quindi sarà sicuramente una bella festa di volontariato, solidarietà e gioia Tutte e tre saremo solisti quest'anno e ci sarà anche la speciale partecipazione di Karima una cantante di Amici Oltre all'iniziativa del 6 di maggio l'UNICEF sta già pensando a un'iniziativa molto importante per settembre Il primo meeting il 29-30 settembre organizzato dall'UNICEF insieme per l'UNICEF Vogliamo Zero, tutto legato sempre allo stesso progetto dove ci saranno due giorni di varie attività dal convegni, dalla prima regata organizzata dal Ravenna Yacht Club e qui di Ravenna poi al mercatino e spettacoli a spasso con la musica Sarà Pietraccio per Ravenna Web TV